fratelli e sorelle tutti ben ritrovati ci prepariamo alla ventitresima domenica del tempo ordinario. Mediteremo il capitolo 18 di Matteo dai versetti 15-20. Le ultime due domeniche ci hanno visto impegnati nel meditare la figura di Pietro e i suoi atteggiamenti di fronte al maestro Gesù. Nella prima domenica il suo coraggio, la sua intuizione dettata dallo Spirito Santo nell'indicare Gesù quale il Cristo, il figlio del Dio vivente, una risposta che porterà Gesù a proclamare Pietro beato. Beato te Simone figlio di Giona perché nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato ma il Padre mio che è nei cieli. Domenica scorsa invece si è passati dalla beatitudine alla condanna. Lungi da me Satana perché tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Gesù aveva appena annunciato la sua passione, la sua croce e la sua morte e Pietro ha reagito di fronte a questo annuncio, rimproverando il maestro. Ed ecco che Gesù rimprovera Pietro, addirittura indicando in lui Satana, quel Satana che ha tentato Gesù nel deserto e che ora ancora una volta si presenta in un momento di debolezza per tentare Gesù nel distoglierlo dalla missione che il Padre gli ha affidato. Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini. Tu Pietro mi sei di ostacolo se la pensi in questo modo. È interessante questa doppia dinamica che abbiamo incontrato in Pietro perché in fondo ci viene ricordato che il nostro cuore è come un pendolo dove talvolta agisce nel bene e altre volte invece scappa dal pensiero di Dio perché troppo impegnativo, troppo controcorrente. Non è dunque uno sbaglio quello di Pietro ma è la realtà umana segnata dalla fragilità del peccato. Dobbiamo partire da qui per comprendere i nostri atteggiamenti, per imparare a saperci apprezzare, voler bene anche quando le cose non vanno per il verso giusto. Noi tutti vorremmo sempre e solo fare del bene eppure sentiamo dentro di noi una spinta che al di là del desiderio ci porta poi a compiere l'opposto. L'esperienza di Pietro vuole essere quasi un segno per noi, per imparare a rappacificarci col nostro cuore, col nostro animo, con la nostra vita. Ma non per questo il Signore ci esclude, anzi, come ci ricorda oggi il testo del Vangelo, ci invita ad aiutarci a vicenda, a concorrere insieme nel volerci bene, nel migliorare, nel crescere giorno dopo giorno. Perché in fondo, vedete, noi non siamo posti accanto gli uni agli altri per puro caso. Ma come ricorda il profeta Ezechiele della prima lettura di oggi, noi siamo sentinelle. Ascoltate, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Se tu vedi un fratello che sbaglia, non tacere, correggilo. Perché se tu non lo correggi, ricorda il profeta Ezechiele, io chiederò a te il conto. Ma se tu lo correggi e lui non accetta di cambiare, chiederò a lui le conseguenze. Allora c'è una responsabilità. Siamo posti uno accanto all'altro come sentinelle, come fratelli maggiori, chiamati a correggerci a vicenda con amore e misericordia, per porci pian piano lungo il cammino che il Signore ci sta indicando. Ecco allora che con questo spirito possiamo entrare nel testo evangelico. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Sii per lui sentinella. Vedete Ezechiele come entra. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neppure la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Dovemo partire ancora una volta dalle domeniche precedenti. La vita di fede, come la vita di comunità, è fondata in Cristo. Quindi il Vangelo è una proposta per i cristiani, per chi ha scelto di abbracciare il Vangelo, ma abbracciando il Vangelo ha scelto di abbracciare la logica della croce, cioè la logica dell'amore, di un amore per sempre. Ma se tu ti accorgi che un fratello esce da questa logica con discrezione, con rispetto, riprendilo. Fa lui presente che sta sbagliando, ma fallo con delicatezza, fallo con delicatezza, fallo con discrezione, perché la vita non è un grande fratello. Ecco l'invito che ci viene rivolto oggi, sapendo che chi ti può fare un torto non è il nemico. Ma come dice il testo del Vangelo, se il tuo fratello ha commesso il male contro di te, cioè qualcuno che sta accanto a te, qualcuno che condivide la tua esperienza, non scandalizzarti se un tuo fratello sbaglia, non scandalizzarti se un tuo fratello ti tradisce, non scandalizzarti se un tuo fratello, non un tuo nemico, un tuo fratello esce dai binari. Rimani fratello, non abbandonarlo, rimani per lui sentinella, sempre pronto ad aiutarlo nel bene, nell'aiutarlo a crescere. Ricordati che se hai scelto di abbracciare la croce, che è l'amore per sempre, per sempre, quello resta un tuo fratello. E allora cerca di fare un passo verso di lui, di andargli incontro, ma non con la collera, non con il dito puntato, ma con il cuore in mano, da fratello, da sorella. E allora vedete che in queste parole Gesù sembra quasi suggerire una pedagogia della misericordia, una pedagogia della fratellanza. si parla tanto di cammino sinodale, ma se manca l'alfabeto, se manca l'ABC, che è il rapporto interpersonale tra fratelli, capite quanta strada dobbiamo fare. E allora capite l'insistenza di Papa Francesco nell'invitarci continuamente a coltivare un atteggiamento di misericordia, a partire dal fatto che come Dio ti ha perdonato, tu sei chiamato a fare altrettanto, sapendo agire nella verità, ma nella carità. In fondo è quello che ha fatto Gesù con ciascuno di noi. Ricordate? Amico, per questo sei qui. Lo ha detto a Giuda. Amate i vostri nemici, ci ha ricordato Gesù. Si comprende che Gesù desidera che nella sua comunità regnino misericordia e pace, e dove non c'è nessuna possibilità di recupero, sia per te come il pubblicano, dice il testo. Non è che debba essere abbandonato, quanto posto nelle mani di Dio. Se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. C'è un momento in cui ti accorgi che non riesci più a riallacciare i rapporti. E allora prega per il tuo fratello. Implora a Dio che ti ascolti. La conclusione del testo evangelico fa capire proprio che la comunità non è tanto solo quella religiosa, civile, ma dove due o tre sono riuniti nel mio nome. È la famiglia, sono la compagnia, il gruppo, dove due o tre fratelli nella fede. Lì sono io, dice Gesù. E allora si tratta veramente di evitare quei chiacchiericci che vanno a rovinare ancora di più i rapporti, ma si tratta di imparare a crescere gli uni con gli altri. Perché vedete, dicevamo che la possibilità di sbagliare c'è in tutti, ma in tutti c'è anche la possibilità di recuperare, ancora di più se aiutati da coloro che ci stanno accanto. Ed è quello che fa Gesù con noi. Signore, dice un salmo, ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Possiamo veramente ritenere che il Signore ponga una fiducia straordinaria in ciascuno di noi. E allora spetta a noi lasciarci misericordiare dal Signore per diventare a nostra volta misericordiosi verso i nostri fratelli e sorelle. Ascoltate oggi, dice il salmo, ascoltate oggi la voce del Signore, non induriamo il cuore perché in Lui c'è gioia e salvezza, in Lui c'è perdono. Carissimi fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi è particolarmente breve come è breve il suo commento, perché qui si tratta semplicemente di prendere coscienza di quanto bisogno abbiamo, di pazienza e di misericordia da Dio e dagli altri. Ma come noi sentiamo questa necessità, dobbiamo imparare anche a darla agli altri, senza esclusione, evitando giudizi e condanne. Ma sempre farlo con discrezione e rispetto, prendendo in disparte, aiutandoci gli uni gli altri. E impariamo a non meravigliarci delle fragilità dei fratelli, perché tutti possiamo cadere, se non oggi, domani. E allora chi sono io per giudicare un fratello che ha sbagliato? Impariamo invece ad aiutarci, sapendo che il Signore è morto per tutti, senza condannarci. Di fronte a questa parola, così carica di speranza, di incoraggiamento, di fiducia, che cosa rispondo? Il testo della colletta, che è la preghiera che noi recitiamo dopo il canto del Gloria, e fa da riassunto a questi testi, così dice, O padre, che gioisci nell'esaudire la preghiera concorda dei tuoi figli, metti in noi un cuore e uno spirito nuovi. Un cuore e uno spirito nuovi. Perché sentiamo la vita come il dono più grande e diventiamo custodi attenti di ogni fratello, custodi, sentinelle nell'amore che è pienezza di tutta la legge. Portiamoci a casa questa parola. Siamo custodi gli uni degli altri, siamo sentinelle gli uni degli altri, ma non per spettegolare perché ci guardiamo dalla finestra, ma sentinelle nell'amore, nella pazienza, nella carità. Io rispondo invece con quest'altra preghiera, ma prima di recitarla vorrei augurare a voi tutti una buona domenica e una buona settimana, anticipandovi già che domenica prossima, ancora una volta, saremo invitati a meditare sulla misericordia, sulla misura che dobbiamo avere nel perdono. Buona domenica! Signore Gesù, com'è bello e gioioso che i fratelli vivano insieme, ma com'è difficile! Ricordami, Signore, che nessuno è perfetto, io per primo. Ricordami che l'amicizia, l'amore, la vita fraterna sono un artigianale lavoro certosino, fatto di pazienza e misericordia, fiducia e rispetto, impegno e speranza. Se sbaglio, Signore, donami l'umiltà di lasciarmi correggere. Se devo correggere, donami l'umiltà di farlo con discrezione e rispetto. Se non riesco, donami l'umiltà di affidarmi a te e di affidare a te chi sbaglia. Signore Gesù, mio fratello ed amico.